Un'occasione importante di conoscenze e di fraternità la visita questa mattina a Salerno del cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, ricevuto in cattedrale dal parroco Don Felice Moliterno. Il cardinale che ha un'esperienza approfondita della realtà di Terra Santa che ha vissuto a Gerusalemme come studente e poi professore presso gli studi biblici della città nel 2016 nominato da Papa Francesco, amministratore apostolico di Gerusalemme dei Latini e patriarca dal 2020. Con un cicerone d'eccezione ha compiuto questa mattina una visita al Duomo di Salerno, poi nella cripta dove si è soffermato dinanzi al sepolcro dell'Apostolo Matteo, un'occasione per approfondire anche il rito della raccolta della manna di San Matteo e di ricevere proprio dalle mani di Don Felice Moliterno, una piccola medaglietta che contiene dell'ovatta irrorata con il liquido conservato dall'ultima raccolta. Sì, era da tempo che volevo visitare il Duomo, molto antico, molto famoso, le reliquie di San Matteo, era una realtà che non conoscevo se non ho presentito dire, visto che ero qui, era giusto fare questa stazione qui per incontrare, ascoltare, anche vedere un pezzo di storia importante. Ho avuto una guida speciale, quella di Don Felice Moliterno, qual è stata un po' l'emozione, le impressioni che ha avuto non appena entrato in cattedrale? Una guida molto competente, molto professionale, anche appassionata. L'emozione qui della cripta? È tutto molto impressionante, molto impattante su tanti punti di vista, insomma. È il luogo dove entri una storia che avevi studiato e che qui invece diventa qualcosa che si può toccare. Una visita per il Cardinale anche al Museo Diocesano San Matteo, contenitore di opere d'arte di Salerno. Era una realtà che non conoscevo, ha dichiarato il Cardinale Pizzaballa ai nostri microfoni, sottolineando l'esperienza vissuta che lo ha portato a conoscere un pezzo di storia molto importante dell'Apostolo ed evangelista San Matteo, patrono di Salerno e dell'Arcidiocesi. San Matteo, col dovuto rispetto, non è solo di Salerno, è di tutta la Chiesa, perché ha scritto un Vangelo che è fondamentale per la fede di tutti, per cui venire anche qui a Salerno e incontrare questo personaggio è anche un po' qualcosa che ci appartiene a tutti. Ok, grazie. Grazie.